benvenuti al nuovo tutorial video di i bravery pro terra santa hd come sapete i bravery vuole creare e il nome pro terra santa lo dice chiaramente una unione ed un'amicizia grande con i luoghi santi attraverso una importante collaborazione con la custodia di terra santa questa collaborazione si manifesta all'interno di i bravery in molti modi entriamo nell'applicazione ovviamente il primo di questi modi è legato alla preghiera in alcuni giorni particolari che o in questo momento non potremmo vedere perché non sono ancora previsti ma nei prossimi mesi ve ne accorgerete nei quali nei santuari della terra santa si celebrano feste specifiche in i bravery quando cliccheremo su prega comparirà una nuova sezione sotto la sezione riti la sezione si chiamerà terra santa cliccando su questa sezione sarà possibile pregare utilizzando i testi del breviario del messale e del lezionario che vengono utilizzati proprio all'interno dei santuari della terra santa in questo modo potremmo essere sempre legati spiritualmente con i luoghi santi ma veniamo ad altre importanti cose all'interno di i bravery che creano e amplificano questo legame tra noi e la terra santa dall'home page sarà sempre possibile cliccare su due nuovi bottoni posti in basso nello schermo a sinistra e a destra sinistra e destra attraverso questi bottoni si potranno fare diverse cose quello di sinistra si permetterà lo clicchiamo di dare il nostro aiuto economico alla terra santa attraverso l'associazione pro terra santa potremo cliccare sul bottone dona e a questo punto entreremo nel nella sezione del blog dell'associazione pro terra santa che ci permette di fare la nostra donazione online ritorniamo all'applicazione e passiamo al secondo bottone il bottone di destra legato più precisamente alla custodia di terra santa cliccando su questo bottone avremo la possibilità di accedere a una sezione a due sezioni che ci aiutano a conoscere la custodia della terra santa il blog della custodia di terra santa e il sito internet della custodia di terra santa proviamo a cliccare sul bottone relativo al blog si aprirà safari e navigheremo attraverso il blog interessantissimo della custodia di terra santa attraverso il quale sarà possibile visualizzare video e informarsi sulle attività della custodia nelle prossime versioni verranno implementate altre importanti funzioni legate a questa nuova nostra nuova amicizia con i luoghi santi vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento al prossimo tutorial video vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento al prossimo tutorial